Buongiorno a tutti, sono Luca Crovi e da qualche tempo sono il direttore artistico di un festival bellissimo che si organizza a Massagno, che si chiama Tutti i colori del giallo. Quest'anno, per lanciare una nuova edizione che ci sarà in autunno, abbiamo deciso di regalarvi un evento speciale e di festeggiare, come si sta facendo in tutto il mondo, il Dante Dì. Il Dante Dì è il 25 di marzo, che è la data nella quale si suppone Dante Alighieri abbia iniziato il viaggio nell'aldilà raccontato dentro alla Divina Commedia e lo festeggeremo con il comune di Massagno con un'occasione molto particolare. Avremo la possibilità di mettere in onda gli audio del commento del primo canto della Divina Commedia letta da Vittorio Sermonti, che ci ha messo a disposizione Emmons, assieme alla lettura del primo canto. Oltre a questo abbiamo deciso di proiettare in esclusiva, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, l'Inferno, un film del 1911 muto, ispirato alle illustrazioni di Gustave Doré dentro alla Divina Commedia. Sono delle illustrazioni particolari che sono state trasformate in un film muto, non di animazione, ma in personaggi reali, che ha cambiato la storia del cinema e la storia della letteratura anche. È una cosa molto particolare, quella che vedrete, la vedrete per 48 ore, messa a disposizione integralmente sul sito dello streaming del Cinema Lux di Mansagno. Non mi resta che augurarvi buon viaggio nella Divina Commedia e spiegarvi qual è il rapporto tra la letteratura gialla di Suspense Poliziesca e Dante Alighieri. Tenete presente che se voi avete letto almeno una volta nella vita Hannibal di Thomas Harris Soli, Inferno di Dan Brown, oppure se avete letto Il Circolo Dante di Matthew Pearl, avete scoperto che la Suspense e il giallo sono strettamente legati a Dante Alighieri e un autore italiano come Giulio Leoni si è divertito persino a inventare una serie fortunata di libri pubblicata anche all'estero con grande successo, interamente dedicata a Dante Alighieri nelle vesti di Detective. A Massagno scoprirete quanta Suspense c'è in un'opera come La Divina Commedia, che è una storia che parla di crimini, di criminali, di punizioni, di pene del contrappasso e che sicuramente è ancora oggi attualissima. Buona visione e buon ascolto da parte mia, da parte del sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti e da tutta l'organizzazione di Tutti i colori del giallo. Buon Dante di a tutti e buona visione e buona esperienza sonora. Grazie a tutti.